Luca, che tipo di azienda è Arbo e cosa si aspetta dalla tecnologia? Arbo nasce a Fano nel 1968, è presto diventata in Italia in realtà molto importante nella distribuzione di ricambi per il riscaldamento. Nel tempo ha esteso la sua gamma di prodotti alla climatizzazione e ad altri prodotti che vengono forniti alla propria clientela, fatta soprattutto di manutentori ed installatori. Il servizio di Arbo è contraddistinto dalla tempestività della fornitura, dalla disponibilità del prodotto e dal supporto tecnico. La tecnologia è fondamentale per supportare la nostra crescita, i piani di sviluppo e i progetti che vengono proposti dalla nostra forza vendita. Qual è stato il momento in cui avete capito di avere la necessità di fare un'evoluzione tecnologica, un cambio di passo in questo senso? Abbiamo avuto l'input di secondare un piano di crescita molto rapido che prevedeva l'apertura di numerosi punti vendita ogni anno. Il nostro modello infrastrutturale era statico, legato a modelli un po' vecchi. Abbiamo individuato come partner Bar Group che è in grado di fornire soluzioni a tutto tondo nell'ambito IT, dall'infrastruttura all'applicativo al supporto. Luca prima ha citato Bar Group come partner tecnologico, ma questo progetto è figlio anche della collaborazione con Cisco. Stefano, grazie a quali soluzioni avete concretizzato le vostre aspettative di business? La soluzione che è meglio risposta a quelle che erano le esigenze di Arbo è stata la full stack tramite Cisco Meraki. Questa tecnologia ci ha permesso di identificare quello che è stato che è oggi il modello del punto vendita Arbo e poterlo applicare su tutti i punti di vendita in maniera snella e in maniera semplice. Ci ha permesso di creare uno stesso modello semplice da implementare nei vari punti vendita italiani e di facile configurazione. questa facilità si è poi riversata diciamo anche al di fuori dell'Italia perché siamo uffici a gestire con lo stesso modello tramite full stack Meraki anche le nostre sedi in Spagna. Il cuore di un'innovazione è la differenza fra il prima e il dopo, quindi ti chiedo cos'è cambiato nella vostra quotidianità grazie a questo progetto. I benefici apportati dalla soluzione full stack Cisco Meraki sono molteplici. Se devo sintetizzare i tre aspetti principali sono il monitoraggio, quindi sapere in tempo reale tutto ciò che accade sia nella sede principale che in tutti i punti vendita, poi la governance centralizzata, quindi poter distribuire modifiche, configurazioni, tra parentesi anche aperture, traslochi di nuovi filiali in maniera molto semplice e un altro aspetto molto importante è quello della sicurezza. Infatti abbiamo acquistato anche le licenze che sopperiscono a quelli che sono i servizi di sicurezza, quindi vi è una protezione aggiuntiva permessa da appunto la soluzione full stack. E a questi benefici si aggiunge Var Group e i suoi servizi professionali, sia che partono in Arbo da Neldes del primo livello e ci supportano anche per tutto il secondo livello, quindi tutta la tecnologia Cisco Meraki è supportata e valorizzata, diciamo, da Var Group. Infine Luca, c'è qualcosa all'orizzonte di cui puoi parlarci? Qualche progetto per il futuro? Mi stai chiedendo se per caso la collaborazione tra Var Group e Arbo potrebbe chiudersi qua? Abbiamo progetti ambiziosi di crescita e credo che continueremo a lavorare anche in futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.